Rita Dallachiesa, membro della Commissione RAI di Vigilanza su Forza Italia Vice Capogruppo degli Azzurri a Montecitorio, si sofferma in una nota sulla situazione della RAI e in particolare sull'adio annunciato da Fabio Fazio Lucia Annunziata. Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la RAI sta compiendo una durissima ipurazione al suo interno. Tutti fuori, e amici di amici dentro. Niente di più vergognosamente falso. Fazio, li ha annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una demolizione voluta dalla CDX. Inutile che facciano la vittima. Erano stati addirittura riconfermati. Togliere le tende, perché non si sentono in linea con questo governo, hanno solo mostrato quanto siano veramente deboli, senza il loro partito dietro, dice. Non hanno capito che questo governo non avrebbe mai fatto loro quello che è stato fatto a tanti di noi, mi compreso, in tutti questi anni. Solo perché non ci siamo adattati al pensiero unico. Hanno dimostrato loro forza. Secondo l'opposizione. Potevano essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto stima e il rispetto del loro pubblico. Invece conclude hanno preferito far finta di essere cacciati. Noi brutti e cattivi. Quella libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così.